Un uomo, Mario Ferri conosciuto come il Falco, già noto per altre invasioni, è entrato sul campo di gioco quando Napoli-Juventus era cominciata da pochi minuti e si è avvicinato a Higuain lanciandogli un berretto del Napoli, che il giocatore ha raccolto per poi darlo a un inserviente. L'uomo, che indossava una maglietta con il simbolo di Superman davanti e la scritta Juve M. Sulla schiena, è poi uscito dal campo e la partita è ripresa.